pace bene cari fratelli e sorelle bentrovati il vangelo di questa domenica ci aiuta a rispondere a una domanda fondamentale come si fa a perdonare sempre prima di lasciarci dire qualcosa dal vangelo ci chiediamo ma cosa significa perdonare anzitutto cosa non è perdonare perdonare non è dimenticare semmai è liberare la memoria dal risentimento perdonare non è dare un colpo di spugna ma richiede un profondo cammino interiore a volte lungo doloroso perdonare non è far finta di niente non pensarci questo sarebbe come mettere un pallone sott'acqua appena lo lasci schizza su cioè appena vengo a contatto con quella persona con quella situazione salto in aria cos'è allora perdonare in semplicità la parola stessa lo suggerisce perdono un dono per per noi stessi e poi per gli altri perdonare il dono di avere un cuore libero dal risentimento e riabilitare interiormente l'offensore ridargli una nuova possibilità attenti perdonare non implica che l'altro si penta io posso perdonare dunque avere un cuore libero verso quella persona nonostante non si sia ancora ravveduta pensate a quando san giovanni paolo secondo andò in carcere a trovare il suo attentatore aliyag cha offrendogli il suo perdono certo perché poi si possa giungere alla riconciliazione servono dei passi da entrambe le parti ma una persona può perdonare a prescindere a questo punto ritorniamo alla nostra domanda come si può perdonare sempre il vangelo ci aiuta a capirlo gesù racconta una parabola importantissima un servo doveva diecimila talenti al suo re oggi sarebbero circa 500 milioni di euro una cifra abnorme il padrone dispone che siano venduti lui la moglie i figli insomma tutto quanto perché saldasse il debito e questo servo lo supplica abbi pazienza con me ti restituirò ogni cosa il re non solo ha pazienza a pietà mosso a compassione cancella il debito condona tutto miei cari questo è ciò che dio fa con noi con me con te dio sta davanti a noi con questa tenerezza con questa pietà sa di cosa siamo plasmati sa che siamo deboli e allora condona perdona rialza da vita nuova ti da nuove possibilità quel condono è il dono immenso che abbiamo ricevuto nel battesimo il suo perdono che continuiamo ad accogliere nel sacramento della riconciliazione e dal suo amore dal suo sacro cuore squarciato dal suo sangue versato che sgorga la capacità di perdonare sempre non dalle nostre forze ma dalla sua grazia ma attenti questo servo condonato uscito fuori incontra un altro servo che gli doveva 100 monete e gli dice abbi pazienza con me ti restituirò ogni cosa ma questo non ne vuole sapere lo tratta duramente e lo fa sbattere in prigione il re saputolo mandò a chiamare colui che aveva condonato e gli disse servo malvagio io ti ho condonato tutto il debito perché mi hai pregato non dovevi forse avere anche tu pietà del tuo compagno come io ho avuto pietà di te la domanda soggia spontanea ma com'è possibile che gli è stato condonato tanto e non è riuscito a pazientare per poco fuori metafora com'è possibile che io vada a messa mi confesso prego e poi non voglio perdonare qualcuno attenti non che non riesco o faccio fatica non voglio qual è il problema di questo servo fondamentalmente non ha compreso il dono ricevuto fateci caso lui si pone davanti al re dicendogli abbi pazienza con me ti restituirò ogni cosa ma quando mai uno può restituire un debito del genere lui va dal re banalizzando la sua condizione pensando che prima o poi può aggiustare tutto quante volte stiamo così davanti a dio come persone che non hanno compreso il dono del suo perdono la grandezza della sua misericordia la sua magnanimità verso di noi diamo tutto per scontato ci autogiustifichiamo banalizziamo ciò che facciamo pensando che in fondo siamo più o meno a posto giusto qualche peccatuccio ma tutto sommato non ammazzo non rubo che male faccio quante volte pensiamo che con un po più di buona volontà dalle mie magagne ne esco ma non è così a parte che le cose serie della vita i nostri attaccamenti malsani profondi non li risolviamo solo con un po di buona volontà solo per grazia di dio possiamo crescere e solo la misericordia ricevuta è data copre una moltitudine di peccati ma soprattutto se guardiamo la nostra vita ma quante cose ci sono state perdonate quanta pietà ha avuto il signore con noi siamo tutti debitori con la vita di tanto vivere da creditori da persone insoddisfatte che puntano sempre a ciò che manca che colpevolizzano di continuo gli altri ci porta alla rabbia la frustrazione se apro il cuore alla grazia e mi lascio illuminare man mano dalla parola di dio dallo spirito santo e guardo con sincerità la mia storia mi renderò conto che è molto più ciò che mi è stato dato le possibilità che ho avuto senza che lo meritassi stare nella vita come persone che invece pensano di meritare tutto o che cercano a tutti i costi di dimostrare di essere a posto buone stare nella vita scindendo la propria miseria da quella degli altri soppesando come nulla le nostre mancanze come macigni quelle degli altri e vivere infelici capire che viviamo perché siamo amati che ci siamo perché siamo dei misericordiati è il punto di partenza per diventare misericordiosi miei cari chi è stato perdonato perdona chi non perdona e chi non ha assimilato il perdono chiesto e ricevuto anzitutto da dio per questo non è possibile essere davvero pentiti e fare esperienza della misericordia di dio e poi non essere disposti a perdonare gli altri per questo gesù con forza ci dirà che se non siamo disposti a perdonare neanche noi troveremo perdono dio una misericordia infinita ma nel giorno del giudizio la adeguerà alla misericordia che noi avremmo voluto usare agli altri ma miei cari lasciarsi perdonare costa costa ammettere di non essere all'altezza costa rinunciare alla tentazione di autogiustificarci costa stare davanti a dio agli altri così come siamo poveri fallibili bisognosi di perdono costa ma libera e da qui miei cari che parte il cammino del perdono dalla nostra relazione con dio dall'avere in noi l'intuizione della sua tenerezza e allora ecco che man mano il cammino del perdono si snoderà attraverso dei passi concreti far conto della rabbia che abbiamo dentro della ferita che abbiamo nel cuore senza dissimulare e man mano uscire da noi stessi rivolgendoci a dio chiedendo che ci aiuti a liberarci da questi tumulti pregando per la persona che ci ha ferito e questo a volte è lungo e faticoso e parte dal dire signore aiutami innanzitutto a non odiarla e pian piano ad amarla dammi i tuoi sentimenti e poi questo cammino ci chiederà di cercare di capire quella persona perché a volte le persone fanno qualcosa pensando sia giusto perché hanno una certa forma mentis un vissuto un modo di vedere la realtà commettono purtroppo i loro errori i loro peccati e allora ecco che capire potrà portarci a compatire ma tutto questo lo possiamo vivere solo se abbiamo un cuore aperto alla grazia se siamo persone che pregano se siamo persone che si lasciano perdonare nel sacramento della confessione se siamo persone con un cuore aperto a quell'amore che dio ha per noi che dio infonde in noi e che chiede di donare a nostra volta e non una volta ma sempre a cominciare dal luogo dove viviamo in famiglia in comunità sul posto di lavoro in fondo miei cari sin da quando siamo piccoli si vive di perdono e si vive se si perdona e allora passo dopo passo i spazi del cuore si dilateranno e potremo diventare sempre più simili al signore misericordiosi come il padre possa aiutarci infine un'ammirabile testimonianza santa maria goretti appena a dodicenne rifiutò più volte le avance di alessandro serenelli lui una volta non sopportò il suo rifiuto e la colpì per 14 volte con un punteruolo all'addome il sacerdote sul letto di morte andò a trovarla e le chiese marietta perdoni il tuo uccisore come cristo perdonò in croce i suoi crocifissori lo perdono e lo voglio con me in paradiso fu la risposta di maria molto bello anche quanto accadde dopo alessandro venne condannato a 30 anni uscirà dopo 27 anni per buona condotta all'inizio preso da una profonda crisi rifiutava di dire la verità dicendo che era stata maria a provocarlo combatteva con i suoi sensi di colpa dopo qualche anno fece un sogno maria bellissima vestita di bianco che gli dava dei gigli che tra le sue braccia diventavano fiaccole capì che maria l'aveva perdonato e che era ora di confessare tutto alessandro visse una profonda conversione e uscito dal carcere dopo poco tempo andò a vivere con i frati il parroco che conosceva la famiglia di maria organizzò un incontro con la madre di maria assunta incontratala ormai anziana alessandro le chiese assunta mi riconoscete certo figlio mio mi potete perdonare ti ha perdonato dio ti ha perdonato marietta vuoi che non ti perdoni io e insieme parteciparono a messa ricevendo l'eucaristia miei cari ecco i miracoli di dio ecco i miracoli del perdono che questa domenica possa davvero aiutarci a riscoprirlo che il buon dio vi benedica pace e bene a tutti